Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi mi regalo 10 euro di spesa, ma non perché io abbia vinto alla lotteria o perché abbia deciso di distribuire tutti i denari al mondo di YouTube, ma semplicemente perché ho utilizzato per la prima volta il servizio della spesa online, che non avevo mai utilizzato, e come prima spesa mi è arrivato, diciamo così, in regalo un codice sconto da condividere con amici e parenti che permetterà appunto a chi effettua una spesa per la prima volta attraverso questo sito di ottenere 10 euro di sconto. Io ci guadagnerò a mia volta uno sconto, perché comunque voglio essere onesta e dirvi che anch'io ci guadagno qualcosa, perché voi avrete 10 euro di sconto sulla spesa, io avrò 5 euro di sconto sulla prossima spesa. Quindi, insomma, è molto interessante e mi sembrava carino condividerlo con voi, perché qualora foste interessati ad acquistare online, magari potete utilizzare questo codice e spendere un pochino meno. Vi spiego brevemente come funziona. Voi dovete collegarvi al sito supermercato24, vi apparirà uno spazio in cui poter inserire il codice, il cap di residenza della vostra zona, vi apparirà una lista di supermercati disponibili, voi andrete a scegliere quello che volete, potete selezionare tutti i prodotti che desiderate acquistare, ci sono diverse marche, diversi tipi di prodotto, ci sono tutti i prezzi indicati, andate a riempire il vostro carrello e poi una volta che avete terminato la spesa potete scegliere l'orario di consegna, che di solito è disponibile anche già dopo un'ora, però potete anche andare a scegliere orari di consegna che vadano più avanti nel tempo, anche addirittura fino a due giorni dopo, e poi semplicemente scegliete la modalità di pagamento che desiderate effettuare, che può essere una carta di credito, quindi pagare tutto prima della consegna, oppure potete scegliere di pagare alla consegna, questo è un metodo che per me può essere comodo in alcuni casi e scomodo in altri, nel mio caso era scomodo perché io in casa non ho praticamente mai contanti e quindi pagare alla consegna era un pochino scomodo, però può essere utile per coloro che prima di pagare vogliono magari controllare il contenuto della spesa, vogliono magari controllare che i prodotti siano arrivati in buone condizioni, insomma quindi può avere i suoi vantaggi, voi ovviamente potete scegliere la modalità che preferite, io ho scelto di pagare prima perché come vi dicevo non ho contanti in casa, però ci sono dei supermercati che permettono di pagare anche col banco ma alla consegna se volete, nel caso mio non era possibile perché io ho scelto un tipo di supermercato che permetteva il pagamento solo in contanti e quindi comunque alla fine ho pagato prima, però mi è andata bene devo dire perché tutti i prodotti sono arrivati in buone condizioni, non c'era niente di andato a male o cose del genere, quindi assolutamente mi sono trovata benissimo. Più o meno funziona in questo modo, quando voi manderete l'ordine vi arriverà un messaggio e una mail, un messaggio sul cellulare e una mail in cui vi verrà comunicato il codice di ordine e il nome della persona che si occuperà della vostra spesa. Nel mio caso la persona che si è occupata della mia spesa mi ha telefonato perché un prodotto che io avevo scelto non era disponibile, quindi mi ha telefonato per chiedermi se volevo sostituirlo con qualcos'altro ed eventualmente con che cosa, oppure se volevo proprio eliminarlo dalla spesa, quindi è stato anche comodo in quel senso. È stato puntualissimo perché io avevo scelto la consegna tra le 15 e le 16 alle 15 il 05 era dalla mia porta con i sacchetti della spesa, quindi è stato veramente molto molto comodo. Quindi insomma è un servizio che per me è stato assolutamente utile, soprattutto nella giornata di ieri perché ieri io non potevo uscire e avevo bisogno di fare la spesa, quindi ho trovato appunto questa soluzione. Per usufruire dello sconto sarà necessario andare sul sito, registrarsi, effettuare la vostra prima spesa e otterrete i 10 euro di sconto, quindi andate in descrizione, vi prendete il codice che vi ho lasciato, un codice sconto, potete anche diffonderlo tra i vostri amici, parenti, se qualcuno fosse interessato perché è valido sulla prima spesa ma è riutilizzabile comunque da più persone, quindi insomma se volete lo trovate in descrizione. Spero di avervi dato dei consigli utili, vi mando un bacio e vi do appuntamento prossimo video. Ciao a tutti!